L'assessore comunale allo sport Carlo Campione risponde alle inesattezze riportate dal giornalista Luigi Scivoli sulle pagine del giornale La Sicilia, dove in merito al bando di gara sulla gestione della piscina asseriva che la gara era andata deserta perché l'importo a base d'asta era eccessivo. Affermazione assolutamente falsa, ha dichiarato l'assessore, in quanto alla gara hanno partecipato due ditte. L'unica affermazione fatta al giornalista è che attendevo comunicazioni da parte degli uffici.